Facciamo un salto alla discarica degli dei. Cavalcamo il cinghiale fino al tramonto, più o meno il massimo che la mia schiena riuscisse a sopportare. Immaginatevi di montare una gigantesca spazzola d'acciaio su una strada di ghiaia per tutto il giorno. Ecco come si stava comodi in groppa a quel cinghiale. Non ho idea di quanta strada percorremmo, ma le montagne svanirono in lontananza e furono rimpiazzate da chilometri di terra piatta e arida. Erbe e sterpaglie si fecero sempre più rade, finché non ci ritrovammo a galoppare, ma i cinghiali galoppano, nel deserto. Quando calò la notte, il mostro si fermò davanti al letto di un ruscello e sbuffò. Prese a bere quell'acqua melmosa, poi strappò un cactus gigante da terra e lo masticò con le spine e tutto. Non andrà oltre, disse Grover. Dobbiamo allontanarci mentre sta mangiando. Non ci fu bisogno di convincere nessuno. Scivolammo giù dalla groppa del cinghiale mentre era occupato a strappare altri cactus. Poi ce la svignammo, accovacciati il più possibile, considerato che avevamo il sedere indolenzito dalla cavalcata. Dopo il terzo cactus gigante e un altro sorso di acqua melmosa, il cinghiale grugnì e ruttò, quindi fece dietro front e ripartì al galoppo verso oriente. Preferisce le montagne? Commentai. Non posso dargli torto, fece Talia. Guarda. Davanti a noi c'era una strada a due corsie e mezzo cancellata dalla sabbia. In fondo, un grappolo di edifici troppo piccolo per considerarsi una città, una casa con le porte e le finestre sprangate con delle assi, un ristorantino messicano che sembrava chiuso da prima che Zoe Nightshade venisse al mondo, e un ufficio postale intonacato di bianco, con un cartello storto appeso sopra la porta. Gila Clow, Arizona. Alle sue spalle c'era una fila di colline, ma poi notai che non erano colline normali. Il territorio era decisamente troppo piatto. Erano enormi cumuli di vecchi automobili, elettrodomestici sfasciati e altri rottami di metallo. Una discarica che sembrava estendersi all'infinito. «Cavolo!» esclamai. «Ho il vago sospetto che non troveremo un autonoleggio», disse Talia. Guardò Grover. «Non hai un altro cinghiale nella manica, vero?» Grover stava fiutando il vento, con aria nervosa. Tirò fuori le sue ghiande e le gettò nella sabbia, poi suonò il flauto. Le ghiande si ridisposero in un disegno che per me non aveva alcun senso, ma lui fece un'espressione preoccupata. «Quelle siamo noi», spiegò. «Quelle cinque ghiande, là». «Io quale sono?» chiesi. «Quella piccola e bitorzoluta», suggerì Zoe. «Oh, piantala!» «Quel mucchio di ghiande là, invece», continuò Grover. «È un guaio». «Un mostro?» domandò Talia. «Lui sembrò a disagio». «Non sto fiutando niente, il che non ha senso». «Ma le ghiande non mentono». «La nostra prossima sfida?» indicò la discarica di Rottami. Con il sole ormai quasi scomparso, le colline di metallo sembravano appartenere a un pianeta alieno. Decidemmo di accamparci per la notte e di addentrarci nella discarica il mattino dopo. Nessuno di noi voleva mettersi a rovistare in quella specie di cassonetto gigante al buio. Zoe e Bianca tirarono fuori cinque sacchiapello e cinque materassini di gomma dagli zaini minuscoli. Non so come facessero, ma probabilmente, per contenere così tanta roba, erano incantati. Avevo già notato anche che gli archi e le faretre erano magici. Non ci avevo mai pensato, ma ogni volta che le cacciatrici ne avevano bisogno, gli comparivano loro sulla schiena. E quando non servivano più, sparivano. La temperatura della notte calò alla svelta. Così, io e Grover raccogliemmo qualche vecchia tavola dalla casa di Roccata e Talia accese il fuoco, fulminandole con una scossa. Qualche attimo dopo ci eravamo già messi comodi, per quanto uno possa mettersi comodo in un villaggio fantasma nel bel mezzo del nulla. Sono uscite le stelle, disse Zoe. Aveva ragione. Ce n'erano a milioni, senza luci cittadine, a tingere il cielo d'arancione. Incredibile, esclamò Bianca. Non avevo mai visto davvero la Via Lattea. Questo è niente, commentò Zoe. Ai miei tempi ce n'erano molte di più. Intere costellazioni sono scomparse a causa dell'inquinamento luminoso degli uomini. Parli come se tu non facessi parte della specie, replicai. Zoe inarcò un sopracciglio. Sono una cacciatrice. Mi sta a cuore la sorte dei patrimoni naturali del mondo. Guarda che desolazione, Costì. Si dice qui, la corresse Talia. Non Costì. Però si può dire colà quando una cosa è lontana, giusto? Beh, no. Si dice solo là, replicò Talia. Oppure lì fa lo stesso. Zoe alzò le mani esasperata. Detesto questa lingua. Cambia troppo spesso. Grover sospirò. Scrutava ancora le stelle come se stesse pensando al problema dell'inquinamento luminoso. Ah, se Pan fosse qui, lui aggiusterebbe le cose. Zoe annui mestamente. Forse è stato il caffè, continuò Grover. Stavo bevendo il caffè quando è arrivato il vento. Forse, se ne bevessi ancora... Ero piuttosto sicuro che il caffè non c'entrasse nulla con quello che era accaduto a Cloudcroft, ma non ebbi il cuore di dirglielo. Ripensai al ratto di gomma e agli uccellini che avevano preso vita all'improvviso al soffio del vento. Grover, pensi davvero che fosse Pan? Cioè, lo so che lo vorresti tanto. Ci ha mandato un aiuto, insistette lui. Non so come né perché, ma era la sua presenza. Quando questa impresa sarà finita, tornerò in New Mexico e berrò un mucchio di caffè. È la migliore pista che abbiamo da duemila anni a questa parte. Ero così vicino. Non risposi. Non volevo stroncare le speranze di Grover. Quello che invece vorrei sapere, intervenne Talia guardando Bianca, è come se è riuscita a distruggere uno degli zombie. Ce ne sono ancora un sacco là fuori. Dobbiamo capire come batterli. Bianca scosse la testa. Non lo so. L'ho soltanto colpito con il coltello e ha preso fuoco. Forse il tuo coltello ha qualcosa di speciale, suggerì. È identico al mio, replicò Zoe. È di mio, non ha avuto lo stesso effetto sui guerrieri. Forse bisogna colpirli in un punto specifico, riflettei. Bianca sembrava imbarazzata nel trovarsi così al centro dell'attenzione. Non ti preoccupare, le disse Zoe. Troveremo la risposta. Nel frattempo sarà meglio pianificare la nostra prossima mossa. Attraversata la discarica, dovremmo continuare verso ovest. Se riusciamo a trovare una strada, possiamo fare l'autostop fino alla città più vicina. Credo che sia... Las Vegas. Stavo per ribattere che io e Grover avevamo avuto delle brutte esperienze in quella città, ma Bianca ci precedette. No! Esclamò. Non lì! Sembrava parecchio sconvolta, come se l'avessero appena spinta giù dal punto più ripido delle montagne russe. Zoe si accigliò. Perché? Bianca fece un respiro tremante. Io... Io credo di averci già passato un bel po' di tempo. Con Nico, voglio dire, durante il nostro viaggio. E poi... Non riesco a ricordare... A un tratto, mi venne in mente un'ipotesi davvero grottesca. Ricordavo quando Bianca mi aveva detto che si erano fermati in un albergo per un po'. Incrociai lo sguardo di Grover ed ebbi la sensazione che anche lui stesse pensando la stessa cosa. «Bianca, l'albergo in cui vi siete fermati», dissi. «È possibile che si chiamasse Casinò Lotus?» Lei sgranò gli occhi. «E tu come fai a saperlo?» «Oh, fantastico!» esclamai. «Aspettate!» protestò Talia. «Cos'è il Casinò Lotus?» Un paio di anni fa, spiegai, io, Anna Bette Grover, ci siamo rimasti intrappolati. Una volta dentro non hai più voglia di ripartire. Funziona così. Siamo rimasti lì per un'oretta, ma quando siamo usciti erano passati cinque giorni. Il tempo corre più veloce. «No», fece Bianca. «No, non è possibile. Hai detto che qualcuno è venuto a prendervi e vi ha fatto uscire, le ricordai?» «Sì». «Che aspetto aveva? Che cosa ha detto?» «Io non... non me lo ricordo. Per favore, non ne voglio parlare, davvero». Zoe si sporse in avanti, la fronte aggrottata per la preoccupazione. «Hai detto che Washington era cambiata quando ci siete tornati, l'estate scorsa. Non ricordavi che ci fosse la metropolitana?» «Sì, ma...» «Bianca», continuò Zoe, «puoi dirmi il nome del presidente degli Stati Uniti?» «Non essere sciocca», replicò lei. «Ci disse il nome giusto». «E chi c'era prima di lui?» insistette Zoe. «Bianca ci pensò per qualche attimo». «Roosevelt?» Zoe deglutì. «Tudor o Franklin?» «Franklin?» rispose Bianca. «Franklin Delano Roosevelt. Come il viale?» chiesi. «Perché sul serio?» Era tutto quello che sapevo sul suo conto». «Bianca?» continuò Zoe. «Franklin Delano Roosevelt non è l'ultimo presidente. Risale a una settantina di anni fa». «Impossibile!» replicò lei. «Io non... ma non sono così vecchia!» Si guardò le mani come per assicurarsi che non ci fossero rughe. Gli occhi d'Italia si rattristarono. Sapeva cosa significasse vivere fuori dal tempo. «Va tutto bene, Bianca. L'importante è che tu e Nico siate salvi, che ne siate usciti». «Ma come?» intervenni io. «Noi siamo rimasti lì per un'ora e siamo fuggiti per miracolo. Come avete fatto a fuggire dopo così tanto tempo?» «Te l'ho detto!» Bianca sembrava sul punto di piangere. «È venuto un uomo e ha detto che era ora di andare e...» «Ma chi e perché?» Prima che potesse rispondere ci abbagliò una luce improvvisa. I fari di una macchina comparvero in fondo alla strada. Ebbi la mezza speranza che Apollo fosse tornato a darci un passaggio, ma il motore era troppo silenzioso per essere un carro del sole e oltretutto era notte. Agguantammo i sacchi a pelo e ci togliemmo subito di mezzo, mentre una limusine pallida come la morte si fermava senza rumore davanti a noi. Lo sportello posteriore si aprì proprio accanto a me. Prima che potessi scostarmi, mi trovai con una spada puntata alla gola. Udì il rumore di Zoe Bianca che tendevano gli archi. Mentre il proprietario della spada scendeva dall'auto, io arretrai molto lentamente. «Dovevo?» Perché mi spingeva la punta sotto il mento. Mi rivolse un sorriso crudele. «Ora non sei più tanto svelto, eh, pivello?» Era un omaccione con i capelli rasati, un giubbotto da motociclista di pelle nera, i jeans neri, una maglietta bianca attillata e gli anfibi. Gli occhi erano nascosti dietro a un paio di occhiali a fascia, ma io sapevo cosa c'era dietro quelle lenti. Due orbite cave piene di fiamme. «Ares!» ringhiai. Il dio della guerra lanciò un'occhiata ai miei amici. «Calma, gente!» e li disarmò con un semplice schiocco delle dita. «Questo è un incontro amichevole!» Mi affondò un po' di più la punta della lama sotto il mento. «Naturalmente mi piacerebbe staccarti la testa e appenderla come un trofeo. Ma qui c'è qualcuno che desidera vederti. E non decapito mai i miei nemici di fronte a una signora.» «Quale signora?» chiese Talia. Ares la guardò. «Bene, bene!» Mi avevano detto che eri tornata. Abbassò la spada e mi scansò con una spinta. «Talia, figlia di Zeus!» riflette Ares. «Non frequenti una bella compagnia?» «Che cosa vuoi, Ares?» replicò lei. «Chi c'è nella macchina?» Ares sorrise, godendosi l'attenzione. «Oh, dubito che voglia incontrare il resto di voi. Soprattutto loro!» indicò Zoe Bianca con un cenno brusco del mento. «Perché non vi prendete qualche tacos nell'attesa? Percy ci metterà solo qualche minuto. Non lo lasceremo solo con voi, divino Ares», replicò Zoe. «E poi», balbettò Grover, «il ristorante è chiuso.» Ares schioccò di nuovo le dita. Le luci del ristorantino messicano si accesero all'istante. Le assi volarono via dalla porta e il cartello chiuso si voltò sul lato con su scritto aperto. «Stavi dicendo, ragazzo capra?» «Andate pure», dissi agli altri. «Qui me la vedo io.» Cercai di sembrare più sicuro di quanto non fossi. Ma secondo me...» Ares non ci cascò. «Avete sentito il ragazzo!» esclamò. «È grande e forte! ha tutto sotto controllo.» Grover e le ragazze si diressero con riluttanza al ristorante. Ares mi squadrò con odio. Poi aprì lo sportello della limousine come uno chauffeur. «Sali, Pivello», disse, «e ricordati le buone maniere. Lei non è comprensiva come me con la maleducazione.» Quando la vidi, rimasi a bocca spalancata. Dimenticai il mio nome. Dimenticai dove fossi. Soprattutto, dimenticai come si fa a formulare delle frasi di senso compiuto. Indossava un abito di seta rosso e i capelli erano pettinati in una cascata di riccioli. Aveva il volto più bello che avessi mai visto. Trucco perfetto. Sguardo abbagliante. Un sorriso che avrebbe rischiarato anche la faccia oscura della luna. A pensarci ora, non so dirvi a chi somigliasse, e nemmeno di che colore fossero i suoi occhi o i suoi capelli. Prendete l'attrice più bella che vi viene in mente. La dea era dieci volte più bella. Prendete il vostro colore preferito di capelli o di occhi o quello che volete voi. La dea ce l'aveva. Quando mi sorrise, solo per un attimo, somigliò un poco ad Annabeth. Poi a quell'attrice della tv per cui avevo una cotta in quinta. Poi... insomma, avete capito. Ah, eccoti qui, persi! esclamò la dea. Io sono afrodite. Mi infilai sul sedile accanto a lei e dissi qualcosa tipo... Lei sorrise. Che dolce. Tieni questo, per favore. Mi passò uno specchio grande quanto un vassoio e mi chiese di tenerlo sollevato. Si sporse un poco e si aggiustò il rossetto con un dito, anche se a me va già perfetto. Sai perché sei qui? Mi chiese. Avrei voluto rispondere. Come mai non riuscivo a formulare una frase sensata? Era solo una donna. Una donna bellissima, con gli occhi limpidi come acqua di fonte. Cavolo. Mi diedi un pizzico sul braccio. Forte. Non... non lo so, riuscì a dire. Oh misericordia, replicò afrodite. Siamo ancora nella fase della negazione. Fuori dall'auto, udì Ares che ridacchiava. Ebbi la sensazione che riuscisse a udire ogni singola parola che dicevamo. Il pensiero di lui là fuori mi fece arrabbiare. E la cosa servì a spannarmi il cervello. Non so di cosa sta parlando, ripetei. E va bene. Allora dimmi, perché sei in questa impresa? Artemide è stata catturata. Afrodite alzò gli occhi al cielo. Oh Artemide, ti prego. Quando si dice un caso disperato. Insomma, se proprio dovevano rapire una dea, avrebbero dovuto prenderne una di una bellezza mozzafiato. Non credi? Compiango i poveri cari che devono tenerla prigioniera. È di una tale noia. Ma lei stava inseguendo un mostro, protestai. Un mostro molto, molto pericoloso. Dobbiamo trovarlo. Afrodite mi chiese di alzare un po' con lo specchio. Aveva scovato una microscopica imperfezione in un angolino dell'occhio e si picchettò il mascara. C'è sempre qualche mostro di mezzo. Ma mio caro Persi, questo è il motivo per cui gli altri sono in questa impresa. a me interessi tu. Il cuore mi martellava nel petto. Non volevo parlare, ma i suoi occhi mi strapparono la risposta di bocca. Anna bettè nei guai. Afrodite sorrise raggiante. Esatto! Devo aiutarla! Continuai. Ho fatto dei sogni che... Ah, la sogni persino! Ma che carino! No, cioè, non volevo dire questo. Schiocco la lingua un paio di volte in segno di disapprovazione. Persi, io sto dalla tua parte. Sono io il motivo per cui sei qui, dopo tutto. La guardai stupito? Cosa? La maglietta avvelenata che i fratelli Stoll hanno donato a Phoebe? Mi spiegò. Pensavi che fosse un incidente? Chi ha mandato Blackjack a cercarti? Chi ti ha aiutato a sgattaiolare via dal campo? È stata lei? Naturalmente! Perché davvero? Che noia queste cacciatrici! Un'impresa alla ricerca di un mostro? bla bla bla. Salvare Artemide. Che resti pure dov'è, dico io. Ma un'impresa fatta per il vero amore. Aspetti un secondo. Io non ho mai detto di... Oh, mio caro, non ce n'è bisogno. Lo sai, vero, che Annabeth stava quasi per unirsi alle cacciatrici? Arrossì? Non ne ero sicuro. Stava per gettare via la sua vita. E tu, mio caro, tu puoi salvarla. È così romantico. Metti pure giù lo specchio, ordinò Afrodite. Sto bene così. Non mi ero neanche accorto di averlo ancora in mano, ma quando lo posai notai che mi si erano indolenzite le braccia. Ora ascolta, persi, continuò la dea. Le cacciatrici sono tue nemiche. Lasciale perdere, insieme ad Artemide e a quel mostro. Non è questo l'importante. Concentrati solo per ritrovare e salvare Annabeth. Lei sa dov'è? Afrodite fece un gesto irritato con la mano. No, no, lascio a te i dettagli. Ma era da secoli che non assistevamo a una bella e tragica storia d'amore. Beh, prima di tutto, io non ho mai parlato d'amore. Secondo, in che senso tragica? L'amore vince tutto, promise Afrodite. Guarda Elena e Paride. Loro hanno forse permesso a una cosa qualsiasi di dividerli? Ma non avevano scatenato la guerra di Troia causando migliaia di vittime? Ma non è questo il punto. Segui il tuo cuore. Ma... ma io non so dove stia andando. Il mio cuore, intendo. Lei sorrise con partecipazione. Era davvero bellissima, e non solo per via del viso e del resto. Credeva talmente tanto nell'amore che era impossibile non farsi venire le vertigini quando ne parlava. Non saperlo è la metà del giusto, replicò Afrodite. Una sofferenza squisita. Non è vero. Non essere sicuri di chi amiamo e di chi ci ama. Oh, voi ragazzi, è una cosa così carina che mi metterò a piangere. No, no! Esclamai. Non lo faccia. E non ti preoccupare, continuò la dea. Non ho intenzione di renderti le cose facili e noiose. No, ho delle sorprese magnifiche in serbo. Angoscia, indecisione. Oh, aspetta e vedrai. Va già benissimo così, la rassicurai. Non si prenda tanto disturbo. Sei così carino. Vorrei che tutte le mie figlie potessero spezzare il cuore di un ragazzo come te. Gli occhi di Afrodite si stavano riempiendo di lacrime. Ora faresti meglio ad andare. E fa attenzione nel territorio di mio marito, Percy. Non prendere nulla. Ci tiene così tanto a tutte le sue cianfrusaglie. Cosa? Domandai. Sta parlando di Efesto? Ma lo sportello dell'auto si aprì e Ares mi agguantò per una spalla, tirandomi fuori dall'auto e riportandomi nella notte deserta. La mia udienza con la dea dell'amore era finita. Sei fortunato, Pivello. Ares mi allontanò dalla limousine con una spinta. Mostra un po' di gratitudine. Per cosa? Per quanto siamo stati buoni. Fosse stato per me, allora perché non mi ha ucciso? Sbottai. Era una cosa stupida da dire al dio della guerra, ma avercelo attorno mi faceva sempre sentire arrabbiato e irrequieto. Ares annui, come se finalmente avessi detto una cosa intelligente. Mi piacerebbe molto, davvero, rispose. Ma vedi, ho una certa posizione. In Olimpo corre voce che tu potresti dare inizio alla guerra più grossa della storia. Non posso rischiare di rovinare tutto. E poi, Afrodite ti considera una specie di star da sop opera o roba del genere. Se ti ammazzo, che figura ci faccio? Ma non ti preoccupare, non ho dimenticato la mia promessa. Un bel giorno e presto, molto presto, ragazzino, solleverai la spada per combattere e avrai modo di ricordarti della collera di Ares. Strinsi i pugni. Perché aspettare? Ti ho già battuto una volta. Come va la caviglia? Il dio soghignò. Non male, Pivello. Ma non credere di provocarmi. Sono pur sempre io il maestro dello scherno. Comincerò la battaglia quando mi pare e piace. Fino ad allora, sparisci. Schioccò le dita. Il mondo ruotò su se stesso in una nuvola di polvere rossa e io caddi a terra. Quando mi rialzai, la limousine era svanita. La strada, il ristorante messicano, l'intero villaggio di Gilaclou erano svaniti. Io e i miei amici eravamo in piedi in mezzo alla discarica, con montagne di rottami metallici che si stendevano in ogni direzione. «Cosa voleva da te?» chiese Bianca dopo che raccontato a tutti di Afrodite. «Eh, non lo so», mentì. «Ha detto di stare attenti nella discarica di suo marito e di non prendere nulla». Zoe so' chiuse gli occhi. «La dea dell'amore non si sarebbe scomodata solo per dirti questo». «Attento, Persi!» Afrodite ha condotto molti eroi sulla strada sbagliata. «Per una volta concordo con Zoe», intervenne Talia. «Non puoi fidarti di Afrodite». Grover mi stava guardando in modo strano. Con il discorso dell'empatia, di solito riusciva a leggere le mie emozioni e debbi la sensazione che sapesse esattamente di cosa mi avesse parlato la dea. «Allora», esclamai, ansioso di cambiare argomento, «come facciamo a uscire di qui?» «Andiamo a ovest», rispose Zoe. «Da quella parte». «Come fai a dirlo?» «C'era la luna piena». Perciò riuscì a vederla benissimo mentre alzava gli occhi al cielo. «L'orsa maggiore è a nord», spiegò. «Ragion per cui quello deve essere l'ovest». Indicò prima l'ovest, poi la costellazione del nord, che era difficile da distinguere nella miriade di stelle. «Ah, già», replicai, «la faccenda dell'orsa». Zoe sembra offesa. «Un po' di rispetto. Era un bell'animale, una degna avversaria». «Lo dici come se fosse stata vera». «Ragazzi», intervenne Grover. «Guardate!» Avevamo raggiunto la cresta di una montagna di rottami. Pile di oggetti di metallo luccicavano alla luce della luna. Teste spezzate di cavalli di bronzo, gambe metalliche di statue, carcasse di bighe, tonnellate di scudi, spade e altre armi, insieme a roba più moderna, come auto scintillanti d'oro ed argento, congelatori, lavatrici e schermi di computer. «Cavolo!» esclamò Bianca. «Quella roba... alcuni pezzi sembrano davvero d'oro». «Lo sono», confermò Talia Cupa. «Come ha detto Percy, non toccate nulla. Questa è la discarica degli dèi». «Una discarica?» Grover raccolse una splendida corona d'oro, d'argento e pietre preziose. Era intaccata da una parte, come per un colpo d'ascia. «E questa sarebbe spazzatura?» Staccò una punta con i denti e cominciò a masticare. «Deliziosa!» Talia gliela tolse con un sonoro schiaffo sulla mano. «Dico sul serio!» «Guardate!» esclamò Bianca. Corse giù per la collina, inciampando su truccioli di bronzo e piatti d'oro. Raccolse un arco che luccicava d'argento al chiaro di luna. «L'arco di una cacciatrice?» Emise un gridolino di sorpresa quando l'arco cominciò a rimpicciolirsi, trasformandosi in una molletta per capelli a forma di mezzaluna. «Proprio come la spada di Percy!» La faccia di Zoe era scura. «Lascialo lì, Bianca!» «Ma è lì per una ragione! Ogni cosa gettata in questa discarica qui deve rimanere! È difettosa!» «O maledetta!» Bianca ubbidì con riluttanza. «Questo posto non mi piace!» disse Talia, stringendo con forza l'asta della lancia. «Pensi che verremo attaccati dai congelatori killer?» scherzai. Lei mi guardò, severa. «Zoe ha ragione, Percy. Le cose vengono gettate qui per una ragione. Ora muoviamoci. Attraversiamo questo posto!» «È la seconda volta che sei d'accordo con Zoe?» mormorai. «Ma Talia mi ignorò. Cominciammo a farci strada fra le colline e le valli di spazzatura. Quella roba sembrava infinita e se non fosse stato per l'orsa maggiore ci saremmo persi. Le colline si somigliavano tutte. Mi piacerebbe dire che filammo dritti senza guardare nulla ma alcune cose erano troppo forti per non dare una sbirciatina. Trovai una chitarra elettrica a forma di lira di Apollo e dovetti prenderla un attimo in mano. Era troppo bella. Grover trovò un albero di metallo spezzato. L'avevano distrutto ma su alcuni rami c'erano ancora degli uccellini d'oro e quando lui li raccolse frullarono le ali cercando di volare. Alla fine scorgemmo il confine della discarica a meno di un chilometro di distanza con le luci di un'autostrada che si perdevano nel deserto. Ma fra noi e la strada... quello cos'è? esclamò Bianca ad un fiato. Di fronte a noi c'era una collina molto più grande e lunga delle altre con la sommità pianta. Era come un tavolo di metallo lungo quanto un campo da football e alto come il palo di una porta. A un'estremità di quella specie di montagna c'era una fila di dieci tozze colonne di metallo tutte stipate insieme. Bianca aggrottò la fronte. Sembrano... dita dei piedi concluse Grover. Zoe e Bianca si scambiarono uno sguardo nervoso. Aggiriamole propose Talia tenendoci parecchio alla larga. Ma la strada è proprio laggiù protestai. Facciamo prima scavalcare. Ping! Talia sollevò la lancia e Zoe tese l'arco ma poi mi resi conto che era soltanto Grover. Aveva lanciato un pezzetto di metallo verso le colonne e ne aveva colpito una producendo un'eco profonda come se la colonna fosse cava. Perché l'hai fatto? domandò Zoe. Grover si fece piccolo piccolo. Non lo so perché non mi piacciono i piedi finti? Andiamo. Talia mi guardò. Aggiriamoli. Non replicai. Quelle dita cominciavano a spaventare anche me. Voglio dire chi si mette a forgiare tre metri di piedi di metallo per poi ficcarli dentro una discarica. Dopo diversi minuti di cammino arrivammo all'autostrada su un tratto di asfalto nero abbandonato ma bene illuminato. «Ce l'abbiamo fatta!» esclamò Zoe. «Grazie agli dèi». Ma a quanto pareva gli dèi non volevano essere ringraziati. In quello stesso istante udì un rumore fortissimo come di un migliaio di compattatori di rifiuti che schiacciavano il metallo. Mi voltai. Alle nostre spalle la montagna di Rottami si agitava come per sollevarsi. Le dieci dita si piegarono e capii perché somigliassero a delle dita. Erano delle dita. La creatura che si erse dal metallo era un gigante di bronzo in armatura greca. Era altissimo. Un grattacielo con le braccia e le gambe che luccicava sinistro al chiarore della luna. Quando abbassò lo sguardo su di noi vidi che aveva un volto deforme. Il lato sinistro era parzialmente disciolto. Le giunture cigolavano di ruggine e sul denso strato di polvere che gli ricopriva il petto un dito gigantesco aveva scritto lavami. Talo! esclamò Zoe senza fiato. Chi è Talo? balbettai. Una delle creature di Efesto rispose Talia. Ma non può essere l'originale. È troppo piccolo. Un prototipo forse. Un modello difettoso. Il gigante di metallo non gradì la parola difettoso. Si portò una mano al cinturone e sguainò la spada sfilandola dal fodero con un orrendo rumore di metallo sfregato sul metallo. La lama sarà stata lunga più di 30 metri. Sembrava arrugginita e smussata ma dubitavo che la cosa avesse molta importanza. Un colpo di quella probabilmente equivaleva al colpo di una corazzata. Qualcuno ha preso qualcosa! esclamò Zoe. Chi è stato? Mi rivolse uno sguardo accusatorio. Io scossi la testa. Sono tutto meno che un ladro. Bianca non disse nulla. Avrei giurato che avesse un'aria colpevole ma non ebbi molto tempo per pensarci perché il gigante difettoso, Talo, fece un passo avanti coprendo metà della distanza che ci separava e facendo tremare il terreno. Scappate! strillò Grover. Ottimo consiglio! Peccato che fosse inutile. Senza neanche troppi sforzi quel coso non avrebbe avuto problemi a superarci. Ci separammo come con il leone Nemeo. Talia estrasse lo scudo e lo tenne sollevato in alto correndo lungo l'autostrada. Il gigante menò un fendente e sradicò una fila di tralicci elettrici che saltarono tra le scintille e ricaddero lungo il tragitto d'Italia. Le frecce di Zoe fischiarono verso la faccia della creatura ma si infransero in vano sul metallo. Grover belò come una capretta appena nata e si arrampicò su una montagna di rifiuti. Io e Bianca ci ritrovammo affiancati, nascosti dietro il rottame di una biga. Tu hai preso qualcosa, l'accusai. Quell'arco. No! protestò lei, ma le tremava la voce. Restituiscilo, replicai. Buttalo via! Non ho... non ho preso l'arco e comunque è troppo tardi. Che cosa hai preso? Prima che potesse rispondere, udì un cigolio fragoroso e un'ombra oscurò il cielo. Scappa! Mi precipitai in fondo alla collina con Bianca alle calcagna mentre il piede del gigante scavava un cratere nel punto in cui eravamo nascosti fino a un attimo prima. Ehi, talo! gridò Grover, ma il mostro sollevò la spada con lo sguardo puntato su di me e Bianca. Grover suonò una rapida melodia al flauto. In fondo all'autostrada i tralicci abbattuti si misero a ballare. Capii quello che sarebbe successo una frazione di secondo prima che accadesse. Uno dei pali che aveva ancora i cavi attaccati volò sul polpaccio di talo e vi si attorcigliò intorno. I cavi scintillarono e mandarono una scarica di elettricità su per la schiena del gigante. Muoviamoci! Disse a Bianca, ma lei non si mosse. Si sfilò qualcosa dalla tasca. Una statuina di metallo, la miniatura di un dio. Era... era per Nico. Era l'unica che gli mancava. Come puoi pensare a mitomagia in un momento come questo? Le chiesi. Aveva le lacrime agli occhi. Buttala via! La esortai. Forse il gigante ci lascerà in pace. La gettò con riluttanza, ma non successe nulla. Il gigante continuò a inseguire Grover. Conficcò la spada in una collina di ciarpame, mancandolo di pochi metri, ma i rottami lo sommersero come una valanga e un attimo dopo non lo vidi più. No! gridò Talia. Puntò la lancia e sprigionò un fulmine azzurro che colpì il ginocchio del mostro deformandolo. Il gigante piombò a terra, ma cominciò subito a rialzarsi. Era difficile capire se fosse in grado di provare qualcosa. La faccia mezzo disciolta non tradiva alcuna emozione, ma ebbi la sensazione che fosse infuriato quanto potesse esserlo un guerriero di metallo alto venti piani. Alzò il piede per calpestarci e vedi che la suola era scolpita come il fondo di una scarpa da ginnastica. C'era un buco sul tacco, come una grossa botola con delle parole rosse dipinte sopra, che riuscì a decifrare solo quando il piede si abbassò. Ingresso manutenzione. È l'ora dell'idea folle, annunciai. Bianca mi guardò nervosa. Spara. Le dissi della botola. Potrebbe esserci un modo per controllare quel coso, degli interruttori o roba del genere. Io vado dentro. Ma come? Dovrai metterti sotto il piede. Ti schiaccerà. Tu distrailo, replicai. Dovrò solo scegliere il momento giusto. Bianca serrò la mascella. No. Vado io. Non puoi. È ancora tutto nuovo per te. Morirai. Il mostro ci ha inseguiti per colpa mia. Ribatte lei. La responsabilità è mia. Ecco. Raccolse la statuetta del dio e me la premette nella mano. Se dovesse succedere qualcosa. Dalla Nico. Digli. Digli che mi dispiace. Bianca, no. Ma non aveva intenzione di aspettare. Partì all'attacco del piede sinistro del mostro. Era talia ad avere l'onore della sua attenzione in quel momento. Aveva capito che il gigante era grosso ma lento. Se riuscivi a stargli vicino senza farti schiacciare, potevi aggirarlo e salvarti la pelle. Almeno fino ad allora aveva funzionato. Bianca si portò accanto al piede destro del gigante, cercando di tenersi in equilibrio sui rottami di metallo che ondeggiavano e si muovevano sotto il suo peso. Zoe gridò. Che stai facendo? Fagli alzare il piede, rispose lei. Zoe mirò al volto del mostro e la freccia si infilò dritta dritta dentro una narice. Il gigante drizzò la schiena e scrollò la testa. Ehi, ammasso di rottami! Urlai io. Quaggiù! Corsi fino all'alluce e lo infilzai con la mia spada. La lama magica di vortice aprì uno squarcio nel bronzo. Purtroppo, il mio piano funzionò. Talo abbassò lo sguardo e sollevò il piede per cicarmi come un insetto. Non vidi cosa stesse facendo Bianca. Dovetti voltarmi e scappare. Il piede piombò a terra a pochi centimetri dalle mie spalle, catapultandomi in aria. Andai a sbattere contro qualcosa e mi drizzai a sedere, stordito. Ero finito dentro un congelatore Olimpo Super. Il mostro stava per finirmi, ma Grover riuscì in qualche modo a riemergere dal mucchio di rottami. Suonò freneticamente il flauto e la sua musica mandò un altro palo dell'elettricità contro la coscia di Talo. Il mostro si voltò. Grover sarebbe dovuto scappare, ma probabilmente l'uso di tutta quella magia l'aveva sfiancato. Fece due passi, cadde e non si rialzò. Grover! Io e Talia ci lanciamo in suo soccorso, ma sapevo che saremmo arrivati troppo tardi. Il mostro sollevò la spada per schiacciarlo. Poi si immobilizzò. Piegò la testa di lato come se avesse percepito una musica nuova e strana. Cominciò a muovere le braccia e le gambe in modo buffo, come se stesse ballando il twist. Poi strinse un pugno e si colpì in faccia da solo. Grande Bianca! gridai. Zoe sembrò inorridita. Bianca è lì dentro? Il mostro barcollò e realizzai che eravamo ancora in pericolo. Io e Talia afferrammo Grover e lo trascinammo con noi verso l'autostrada. Zoe ci precedeva. Gridò. Come farà a uscire? Il gigante si colpì di nuovo sulla testa e gettò la spada. Fu scosso da un brivido e barcollò verso i tralicci dell'alta tensione. Attenta! urlai, ma era troppo tardi. La caviglia del gigante si impigliò fra i cavi e scintille azzurre di elettricità lo percorsero per tutto il corpo. Sperai che l'interno fosse isolato. Non avevo idea di cosa stesse accadendo là dentro. Mentre il gigante sbandava, cercando di tornare alla discarica, perse la mano destra, che piombò fra i rottami con un orribile clang. Poi perse anche il braccio sinistro. Si stava rompendo alle giunture. Talo cominciò a correre. Aspetta! gridò Zoe. Lo inseguimmo, ma era impossibile stargli dietro. Continuava a perdere pezzi che ci intralciavano il cammino. Il gigante si sgretolò del tutto. Crollarono la testa, il petto e infine le gambe. Quando raggiungemmo le macerie, cercammo dappertutto, gridando il nome di Bianca. Strisciammo dentro gli immensi pezzi di cavi, nelle gambe e nella testa. Frugammo ovunque, finché non cominciò a sorgere il sole, ma invano. Zoe crollò a sedere e scoppiò a piangere. Rimasi sbigottito a vederla in quello stato. Talia urlò di rabbia e conficcò la spada nel volto schiacciato del gigante. Possiamo continuare a cercare, proposi. Ora è giorno. La troveremo. Affatto, obiettò Grover, affranto. È successo proprio come doveva succedere. Di cosa stai parlando? Domandai. Mi guardò con gli occhi grandi e pieni di lacrime. La profezia. Uno si perderà nella terra dove mai pioggia viene. Perché non me ne ero accorto in tempo? Perché l'avevo lasciata andare al posto mio? Eravamo nel deserto e Bianca di Angelo non c'era più.